Sempre 4 a 1 a nostro favore, qua al palo l'India, lete, no no niente, sempre 4 a 1 qua. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco Erika, Erika. Chi ha fatto i gol? 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 No. No, non stanno. Ah, pensavo che era la capolista. No. No. Chi ha fatto i gol? Chi ha fatto i gol? Chi ha fatto i gol? perché siamo vincendo è già una grande arrivata all'andata abbiamo perso per 4 a 2 è lunga, è buona vai Erika la quinta rete realizzata da Erika strepitoso gol di Erika 5 a 1 il risultato parziale fino ad adesso ecco attacco la sesta rete la sesta rete ecco la sesta rete 6 a 1 sì grazie